Un nuovo spazio dedicato alle nostre ultime notizie, ben ritrovati da parte della redazione di Teletruria. Cominciamo dalla cronaca, la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sulla morte dell'imprenditore aretino a Dubai, predisponendo anche l'autopsia sul cadavere, presentato un esposto da un parente dell'uomo. E poi la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di trasferire il procuratore Roberto Rossi, Rossi sarà dunque il nuovo responsabile dei PM ad Ancona. E ancora la cronaca, i carabinieri della stazione di polizia giudiziaria della procura di Arezzo, insieme ai colleghi del gruppo Carabinieri Forestali, hanno eseguito un'ordinanza del Tribunale sottoponendo a sequestro preventivo due stabilimenti per la lavorazione degli inerti da Cava a Casa Corneto, a Terra Nuova Bracciolini e poi in località Pian di Chena a Laterina. Il sequestro ha coinvolto anche una società di Montevarchi accusata di aver effettuato trasporti illeciti di rifiuti speciali verso i due stabilimenti. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.